Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi faccio questo video sponsorizzato su un server di Ark che mi ha contattato e mi hanno chiesto appunto di fare questo video sponsorizzato. No, non è per deludervi, non torno a giocare Ark, non per cattiveria, non per qualsiasi altra cosa, ma c'ho talmente tante cose da fare ora fra tutti gli editori di giochi da tavolo, giochi di ruolo. E ora anche i produttori di stampanti 3D c'ho talmente tante cose da fare che sono pieno zeppo come nuovo e non ho più tempo per giocare, ma non Ark, a niente. Il server di cui vi parlo oggi è un server internazionale, il cui nome, come lo vedete da qui, è Ark Life e non è un normale server, ma è un cluster. Cosa sono i cluster? I cluster sono insieme di server, tutti insieme, tutti quanti collegati, e questo Ark Life ha addirittura 20 server collegati tutti quanti in un unico cluster. In tutto può ospitare fino a 1400 giocatori e è veramente molto stabile come potenza delle macchine e dei server dedicati. E come poi vi farò vedere un pochino nella descrizione e tutto quanto, di questi 20 server, 15 sono server normali, che ora poi vi vado a fare. Tanto comunque ci avete tutto scritto qui nel Discord sotto descrizione Discord, che vi lascio ovviamente nei primi link in descrizione, andate a vedere subito. E in più di questi server vi dicevo, 15 sono normali e 5 invece sono server di partenza, per chi deve fare un po' di tutorial o per chi anche vuole iniziare a giocare senza che vengano raidati e cose del genere. Come riporta qui la descrizione, vedete che questi beginner cluster sono dei per 30 di velocità e durano un mese. Dopo un mese il vostro server cluster diventa, viene trasformato in un server normale, quindi nemmeno vi dovete spostare, ma viene trasformato in un server normale e ne vengono aperti altri 5, appunto per dare la possibilità ai giocatori beginner di iniziare lì. Ad esempio non potete essere raidati e c'è più un tipo di gioco prettamente PVE. Mentre invece nei server normali vedete che sono per 10, quindi all'inizio nei beginner vi fanno fare tutta una botta, poi dopo ovviamente la velocità un po' si rallenta e diventano dei per 10, qui è un server normale con le tribe war e tutto quanto. Regola del server vuole che come vedete qua su in cima c'è scritto per le prime 30 tribù con almeno 4 giocatori, 4 membri attivi, danno il tech starter pack gratis. Quello che io ve ora state vedendo nell'immagine, quello che vi ho appena mostrato e quindi potete avere questo starter pack gratuito se avete una tribe con almeno 4 giocatori attivi. Non sono nemmeno tante alla fine fine. Nei server normali come vedete c'è scritto qui su ArcLife, che lo trovate, anzi vi faccio vedere subito commentare nei server, quando andate nella lista server scrivete ArcLife come vedete in questa immagine in alto e in basso dovete spuntare la voce Unofficial Server perché sennò ovviamente non ve lo trova in quelli ufficiali. E vi ricordo che è un cluster, ci sono tanti server, scegliete quello che più vi aggrada e entrate, se siete nuovi giocatori beginner entrate in quello beginner. E vi dicevo c'è la regola delle small tribe da 7 membri al massimo così che non si vadano a formare quelle tribù da 300 giocatori e poi se arriva una tribù piccolina da 4-5 giocatori viene arata, viene mazzolata e finisce lì. Tra l'altro non ci si può neanche alleare come tribù ma comunque ci sono sempre le guerre ovviamente perché poi il discorso principale di Arc è proprio il PvP. Ci sono nel server, ora ve lo faccio vedere, dei contest, poi ovviamente tutte le regole, no mesh, no dupe, dei contest con dei veri soldi e ci sono in palio tutti i mesi 500 dollari in premi che poi sono divisi così. Come vedete ad esempio l'evento che ora è in atto fino al 31 di luglio, al primo che arriverà vincerà 250 dollari, il secondo 150 e il terzo 100, più ovviamente questi elements e coupon comunque sono punti che potete spendere con le donazioni sempre su loro discord. E in questa gara dovete semplicemente trovare le uova colorate tipo l'easter egg come si chiamano retanto con un gioco dei dodo. Dovete andare in giro per i server, trovarle e metterle dentro la vostra cassa. Il 31 una volta che sarà finito dovrete, poi c'è scritto tutto, mandare delle immagini e sicuramente ci vorrà anche la presenza di un admin in gioco che andrà a sancire il vincitore. Chi, il vincitore o la tribù che ha fatto più uova, si porta a casa 250 dollari. Sì ragazzi, sono soldi veri che tutti i mesi sono messi in palio, tutti i mesi e quindi potete anche giocare sperando di vincere soldi, perché no, non fa male a nessuno. Con le donazioni potete pagare ovviamente per avere dei crediti in gioco e con questi crediti c'è tutta quanta nella lista, tipo lo starter pack. Vedete per i beginner quanto costa, come detto prima invece alle tribù che portano almeno 4 membri attivi, questo qui viene dato completamente gratuito. E poi ci sono tutti gli altri pack sotto. Se volete mettere un ticket, ovviamente per richiamare l'attenzione per un problema e cose del genere, dovete semplicemente per creare un ticket mettete una reazione con questa bustina qui. Quindi è anche molto semplice, dovete verificare il vostro PSN perché, cosa importante che non ho detto all'inizio ma vi ricordo ora, il server è solo per PlayStation 4. Non è per PC e purtroppo, io spero che sta cosa la faranno, anche perché l'avevano annunciata anni fa, quando ancora giocavo io, speriamo che prima o poi faranno cross platform perché questi server sono solo per PlayStation 4 e dovete essere autenticati, vedete il PSN Verify, qui c'è tutta quanta la lista delle persone che hanno mandato il loro PSN, direttamente allo staff del gioco su Discord per poi poter entrare all'interno dei server ed essere appunto verificati. Poi c'è il canale generale, gli eventi, i bug riscontrati, la blacklist, glitch, comunque tutto quello, ovviamente regole di Discord che sono importantissime per non venire bannati, tutte le cose importanti ed essenziali le trovate nella descrizione qui, tanto vi lascio comunque in descrizione anche il social, il Facebook, vi lascio anche il link al Discord, e in più tutte quante le regole in gioco e di Discord. Importante ragazzi, si vincono dei soldi, non è una cavolata, io poi non mi ce metto nemmeno in mezzo a queste cose, perché l'ultima cosa che voglio nella mia vita è parlare di soldi su YouTube, non mi è mai interessato e non me ne frega niente, però c'è la possibilità di vincere dei soldi tutti i mesi, vengono messi in palio, come vedete al 13 di luglio, l'evento attuale al 31 di luglio, vengono messi in palio questi 500 dollari tutti i mesi che avete la possibilità di vincere. Questa volta è magari l'evento di trovare le uova, la prossima potrebbe essere un evento pvp, una gara e cose del genere, quindi alla fin fine controllate sempre che c'è, perché no? Cioè, sono tante persone che giocano in questo server, è un server internazionale, non italiano, è un server internazionale, la lingua è l'inglese, però comunque c'è la possibilità anche di vincere dei soldi, quindi mi sembra una buona iniziativa, se volete entrare nel server, nella ricerca di server nel gioco, dovete mettere server unofficial e scrivere ArcLife per, e lo trovate, li trovate tutti quanti con The Cluster, come vi faccio ora rivedere in queste immagini. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate e fateci un giro, ricordo che è soltanto per PlayStation 4, ok? Quindi non per PC, comunque sui siti ho visto si trova 10€ la chiave di Arc, anzi, coso Epic Store, non so se anche per PlayStation, comunque la regalava fino a qualche giorno fa, quindi per 10€ ci sta, alla fin fine ci avrete centinaia di ore per divertirvi. Fatemi sapere cosa ne pensate, io ringrazio lo staff di ArcLife per avermi commissionato questo video di presentazione e di sponsorizzazione, e insomma ragazzi, divertitevi, entrate nel server, trovate tutto in descrizione. Ciao ragazzi, alla prossima!